non lo donucchia sei in onda saluta che sei in onda vuole arrivare prima di noi un paio di tocchi tra poco i morotieri sono superati in bastoni che fai salvi la tavola o ti salvi tu? mannaggia il ginocchio non so come tiro ma guarda quattro cazzo di pietre lì arrivo, arrivo, occhio che arrivo ha detto arrivo ha detto arrivo ha detto arrivo Buongiorno